Nella massima serie direttantistica per il girone H termina in parità la sfida tra Matera e Foggia, 1-1 il finale, con Retri, entrambe nel primo tempo. Passa in vantaggio al nono la formazione di casa con Todino che di testa manda la palla sotto la traversa su cross di Ferrenti. Il pareggio degli ospiti al 41esimo congiglio dopo una serie di batti e ribatti sulla linea di porta materana con i padroni di casa che non riescono a spazzare. Sempre in serie D, a reti inviolate, la gara tra Nardo e Francavilla sul Sinni con l'11 Lucano più propositivo ma che non riesce a mettere a segno la terza vittoria consecutiva.